Una visita ispettiva ai reparti del corpo della sede provinciale di Nuoro per conoscere gli agenti del comando ma anche per fare il punto sulle attività e sugli obiettivi dei prossimi mesi. A condurla questa mattina il comandante interregionale dell'Italia centrale e generale di corpo d'armata Bruno Buratti giunto questa mattina a Nuoro da Roma. Dopo un incontro con il comandante provinciale colonnello Alessandro Ferri e con le autorità locali il comandante interregionale ha incontrato i giornalisti per fare il punto sulla sua visita. Noi siamo concentrati quest'anno sulla scommessa e quella di mettere sotto tutela il piano nazionale di ripresa e resilienza che come sappiamo è il più grosso innesto di fondi nell'economia a far data dalla fine della seconda guerra mondiale. L'Italia come sappiamo proviene da un periodo non facile, stiamo cercando di riprenderci, questi fondi sono fondamentali e quindi la nostra attenzione è concentrata sulla regolare gestione di questi fondi che sono legati a numerosi progetti, peraltro parliamo anche di importi abbastanza consistenti perché siamo nell'ordine del miliardo e mezzo di euro sulla regione Sordegna di cui oltre 400 milioni soltanto sulla provincia di Nuoro. Riguardano molti progetti che noi stiamo monitorando anche in collaborazione con gli enti incaricati poi di spendere e noi confidiamo che si spenda bene. Si è parlato anche delle frodi legate al bonus e al superco bonus edilizio? Sì, questo purtroppo è un problema di livello nazionale, come sapete sono diversi miliardi di euro che ballano, molti crediti sono ormai bloccati nei cassetti fiscali e ovviamente ciò che dispiace è che molti di questi fondi poi siano finiti per essere erogati a soggetti che non hanno avviato assolutamente nessun tipo di ristrutturazione ma sono tutte situazioni costruite sulla carta. Per fortuna devo dire anche su input della Guardia di Finanza poi la normativa è stata modificata ed ha impedito questa cessione indiscriminata del credito che poi consentiva di lucrare illecitamente fondi che venivano poi spesso e volentieri inviati all'estero. Insomma abbiamo tracce di denari che sono finiti a Singapore, in Cina che chiaramente con la ristrutturazione edilizia c'entrano molto poco.